Poi ammà! Poi ammà! Essere un po' più leati nel quartiere Però il sindaco poteva almeno permettere di ascoltare quello che si discuteva Non è previsto l'intervento del sindaco Però è previsto che dobbiamo essere presi in giro Non è previsto neanche di essere presi in giro Questa è la sede, chiedo scusa signor Non è questa la sede Io l'avevo chiesto per istituto di partecipare e mi è stato negato di partecipare nella sede occorre Non è un consiglio comunitario questo Non è possibile il loro indagare Prendiamo l'atto per dispiare ... Io non credo per nulla E' vero un nuovo E' nato gli stagioni E' un terreno per me legittimi credendo Voi aspettiamo Ma facciamo questo tipo di comunale aperto, continui di comunale aperto, come sull'ospedale che non è servita a niente. No, ma guardate, in realtà dove sta la realtà? Noi l'abbiamo sentito, l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito, stasera, stasera non si discute più andando, non si discute, non si discute, non sono che finiscono in sedi tranquilli. Ma io non so che mette a votare. Eh sì, ho capito, dobbiamo fare il consiglio con la aperte, o dobbiamo fare? No, io so che si poteva distruttore prima, quando prima, quando era 30 anni fa, quando prima? Io ho chiesto di partecipare, l'abbiamo mantenuto con la professione del campeggio, ho chiesto di partecipare, non di partecipare, di presenziare, che è cosa diversa. Ma era già definita la questione. Non mi era deciso niente, perché la competenza di servizio non era giusta. E' ancora sempre. Il parere vasto è già stato acquisito, quindi dei nutri che discutiamo, è stato acquisito per iscritti, è stato pubblicato, è stato pubblicato, è stato sede della regione basilica, è stato sede del comune, oramai da un mese, quindi non stiamo discutendo. Trendo atto, che vi dispiace dei 30 ragazzi che potevano lavorare, degli investimenti, qualche delle 400 persone, è stato rivolto, è stato rivolto, è stato rivolto. Sono un'amazione che si è stato sede, sono stati pubblici, se inviti, ci fanno bene il pubblico, prendo atto, mi spesso, sono rivolto a farvelo andare. Sì signora, però... Grazie a tutti. Grazie a tutti.